Musica Salve a tutti amici carnivori ho delle novità da mostrarvi veramente molto molto interessanti venite con me oggi amici un unboxing veramente molto hot solo da Tiflora Musica Ecco qua amici le protagoniste del nostro unboxing prima però di presentarvele volevo farvi notare una cosa ovvero il passaporto delle piante rispettivamente di Drosera e di Dionea questa cosa è veramente importantissima quindi complimenti a Tiflora e complimenti a Valerio andiamo adesso a vedere le nostre protagoniste sicuramente avrete notato le nuove etichette di Tiflora che sono sempre più belle iniziamo dalla Drosera Regia questa è una novità che propone lo shop è una taglia S quindi non voglio immaginare come sia la taglia adulta perché è veramente grande passiamo adesso alla Dionea muscipula Carboni ardenti questa è una novità veramente scottante Carboni ardenti è una pianta selezionata da Diflora poiché deriva da una mutazione di una pianta selezionata in vitro adesso vi faccio vedere ovvero dalla Periscope da quest'ultima è uscita una mutazione che nel tempo è rimasta costante e da qui è nata la Carboni ardenti ha la caratteristica da avere moltissimi peletti sensori all'interno della trappola poi quest'ultima si colorerà di un colore arancione molto acceso durante la stagione vegetativa è una pianta molto molto particolare da avere assolutamente in collezione complimenti a Diflora per questa bellissima pianta questa drosera invece è un graditissimo omaggio è una subtropicale perenne derivante dal Sud Africa dall'ononimo fiume molto molto carina ringrazio Diflora per questo pensiero guardate qua che meraviglia di piante quando dico che la qualità è più importante della quantità a Diflora per il nostro canale